Vuoi provare una piacevole sensazione di benessere corporale che si traduca anche in benessere psicologico? La tecnica di rilassamento muscolare progressivo può aiutarti a centrare molteplici obiettivi, distendere il corpo, rilassarti in momenti di difficoltà, raggiungere uno stato di calma, svuotare la mente, ridurre i livelli di attivazione durante la giornata. Il tutto in modo molto semplice, in un quarto d'ora di tempo. La tecnica di rilassamento progressivo lavora sui muscoli principali del corpo, che dovrai contrarre di volta in volta per un tempo di 20 secondi, per poi rilasciare dolcemente, portando l'attenzione sulla sensazione di rilassamento che ne riceverai. Sdraiati sul letto o su un divano ampio e comodo. Respira profondamente per raggiungere uno stato di tranquillità. E ora partiamo dall'alto verso il basso, dal viso alla punta dei piedi. Ricorda, muscoli, pensieri ed emozioni sono in relazione tra loro. Cominciamo dalla fronte. Aggrotta la fronte e inarca le sopracciglia. Trattieni per 20 secondi. Focalizzati sul punto in cui avverti la tensione, poi rilascia, ispirando. Mentre butti fuori l'aria, senti la calma che comincia a pervaderti. Passiamo agli occhi. Porta la tua attenzione verso le palpebre e chiudile strettamente. Mantieni gli occhi ben serrati per 20 secondi. Quindi rilascia la muscolatura e avverti un deciso senso di sollievo e leggerezza. Eccoci arrivati al naso. Inspira e arriccia il naso come se dovessi starnutire, allargando le narici più che puoi. Resisti 20 secondi. Resisti 20 secondi. Tra un passaggio e l'altro, ricorda sempre di respirare. Di non avere fretta. E di focalizzarti completamente sul tuo corpo. Riprendiamo. Siamo arrivati alla lingua. Solleva la punta e poggiala sul palato, facendo un pochino di forza. Trattieni per 20 secondi. Poi, lascia scivolare la lingua dolcemente verso il basso. Senti l'interazione di mente e corpo? Ora sei sulle guance. Fai come i bambini. Apri la bocca più che puoi e fai una boccaccia. Tieni per 20 secondi. Concentrandoti sulla tensione delle guance. Quindi rilassa completamente la bocca. Chiudendola, ma senza serrarla. Senti come la muscolatura del viso si scioglie. Stai scaricando tutte le tensioni. Ora dirigi l'attenzione alle mascelle. Stringile forte. Come se stessi mordendo qualcosa di solido. Senti per 20 secondi. Senti per 20 secondi. Quindi rilassa, lasciando andare via tutta la pressione. fino a sentire la bocca leggerissima. Scendiamo verso il collo. Lo senti rigido? Irrigidiscilo ancora di più. fino a farlo diventare duro come il legno. Tieni la muscolatura contratta per 20 secondi. e poi rilascia. La schiena. La senti tesa? Sofferente? Prova a inarcarla più che puoi e mantieni la posizione per 20 secondi. Quindi rilassala, ricadendo delicatamente sul letto o sul divano. La sensazione sarà come di esserti liberato di un'armatura pesantissima. Man mano che ti perfezionerai in questa tecnica, ti accorgerai di come ogni volta sarai in grado di raggiungere uno stato di rilassamento più profondo e soddisfacente. Ma riprendiamo. Sempre al massimo della concentrazione, porta l'attenzione verso il torace. Inspira profondamente, espandendo i polmoni, come se dovessi andare in apnea. Trattieni per 20 secondi. Poi rilassa il diaframma e butta fuori tutta l'aria che avevi nei polmoni. Siamo pronti per lavorare sullo stomaco e sulla sua potente muscolatura. devi contrarre con molta forza solo la parte superiore dell'addome, trattenendo per 20 secondi. Poi, lascia andare. Lo stomaco ora è morbido e rilassato come non mai. senti com'è piacevole lasciar scorrere via tutte le tensioni, come fossero delle tossine da eliminare. bene, è proprio ciò che stai facendo. Siamo arrivati ai glutei e alle cosce. Anche queste zone sono spesso tese. con tutta la forza che hai, contrai le natiche e le cosce per 20 secondi. Poi rilascia completamente. Ricorda sempre di respirare. Ora, sali alle braccia e gonfia i bicipiti più che puoi, per 20 secondi. Immagina di essere un bodybuilder che tira su una montagna di pesi. E poi li lascia andare giù tutti in una volta. che liberazione. Prosegui verso avambracci e mani. Irrigidisci le braccia e stringi i pugni fortemente, come se volessi picchiare qualcuno che ti ha fatto un torto. Trattieni per 20 secondi e infine rilascia. I tuoi arti superiori ora sono del tutto privi di peso. Possiamo tornare alle gambe. Punta i talloni verso il basso e contrai i polpacci più che puoi per 20 secondi. per poi rilassarli completamente. Mantieni ancora un po' di concentrazione e tendi le caviglie. Contemporaneamente allarga le dita dei piedi all'infuori per 20 secondi. Quindi rilascia e torna alla posizione primaria. Hai finito ma approfittane per rimanere ancora per qualche minuto in questo stato di relax completo. Con gli occhi chiusi. Goditi la sensazione di profondo sollievo che stai provando. La tua mente è sgombra. Il tuo corpo è leggero. Puoi riprovare tutti i giorni oppure ogni volta che vuoi per ritrovare la calma e la serenità che stai avvertendo adesso. Puoi riprovare tutti i giorni.